padre ignazio la via cruzio si cittadina non si è fatta causa il meteo si marzo e pazzo l'abbiamo visto ha fatto sole e ha piovuto quindi con gli altri confratelli ci siamo sentiti e abbiamo deciso ognuno di fare la propria celebrazione nelle proprie parrocchie e quindi non è stata molo volontà nostra quindi per la salvaguardia anche della salute e prepararci bene a vivere la settimana santa